Ragazzi, benvenuti sullo video di Mr.Bug che sono sempre io, non è cambiato niente e oggi ci troviamo su un nuovo video personalizzato che sarà il primo video del canale dove parleremo di allevamento di specie di animali e vi ho fatto un po' di tempo fa un video allevamento sui animali ma siccome all'epoca era anche un pochino più stupido essendo comunque ancora, io ricordo, non sono proprio ancora esperto degli animali ma sono appena entrati in questo nuovo mondo quello lo calcoliamo come video soltanto di presentazione degli animali invece oggi vi farò vedere il video vero e proprio dell'allevamento degli animali buona visione e la sua scuola di iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere nuove notifiche e lasciare un bel mi piace, ciao raga il video allevamento di cui parleremo oggi sarà l'allevamento degli insetti stecco Shungai Inexpectata Shungai Inexpectata è la specie di insetto stecco quasi più piccola del mondo appartenente alla classe dei fasmidi è riconosciuto per essere uno degli insetti stecco più elevati e più facili da mantenere in cattività il nome comune di questo insetto è l'insetto stecco del monte Shungai ma non sentirete quasi mai pronunciare questo nome inoltre proviene dalle Filippine e il nome scientifico della specie è Shungai Inexpectata tratto a dire che le informazioni che vi sto per dare andranno bene per qualsiasi tipo di insetto stecco Shungai Inexpectata il maschio sarà un pochino più sottile della femmina e misurerà circa 8 cm con tanto di zampe mentre invece lo aggiungerà no scusate il maschio sarà molto più piccolino della femmina e misurerà circa 6-7 cm di colore bruno grigiastro è presente anche notare dei piccoli segni di striature o comunque macchi bianche su tutto l'addome il mio maschio in tal caso è un marroncino grigiastro ma si possono trovare anche color bruno grigiastro o marroncini scuri la femmina invece come potremo vedere sarà ben più grossa del maschio e sarà sempre di colore marrone scuro quasi nero inoltre questa specie è anche nota per essere una delle specie più facili da riconoscere poiché le specie Shungai Inexpectata avranno sempre macchie o linee bianche su tutto il corpo più o meno presenti questo va dalla specie che si è acquistato la femmina misurerà circa 7 cm da grande ma se si contano anche le zampe arriveremo con 10 cm massimo nel femmina tra l'altro è presente anche sempre alla fine della coda un nuovo oppositore ben zoomato dalla telecamera questo nuovo oppositore sarà utile nella fecondazione per deporre le uova che potranno avviarsi per parte genetica o non genetica la femmina infatti sarà in grado sia di deporre le uova grazie all'aiuto del maschio come tutti gli animali natura ma sarà anche in grado di produrre le uova anche senza l'aiuto del maschio in modo da far sopravvivere la specie ecco l'uomo oppositore della mia femmina adulta la specie sungai inespettata è conosciuta per una specie notturna ovvero si muoverà molto più di notte e di ferma tendrà a stare sempre ferma su un albero o sulle pareti del terrario ma è anche conosciuta per qualche attività diurna ovvero il semplice cibarsi di una foglia o il fare di una muta adesso io qui con me non ho le uova ma le uova delle femmine sono uova molto dure colore nero e a forma di palline molto molto piccoline questo ci potrà dare un aiuto nel riconoscere le uova dalle feci dell'animale adesso passiamo alla parte più importante delle cose da sapere in questo caso non ve lo potrò fare ma passeremo all'allestimento del terrario come mantenerli come far sì che gli animali possano conviverci bene la vita media di questi animali sia per maschio sia per femmina è intorno ai 15 mesi ma si può superare benissimo anche l'anno come ogni insetto stecco c'è da ricordare che anche gli insetti fogli essendo parenti vivranno un anno anch'essi le statistiche sono un po' diverse ma diciamo che tutti i fasmi di circa un anno di vita per il terrario si potrà optare per un terrario classico ovvero un 20x30 d'altezza in modo che così si possa aiutare l'insetto quando dovrà fare mute dato che questo insetto fa appunto le mute in verticale è consigliato scrivere sulla tecca il nome dell'insetto stecco il posto da dove viene io qua ho sbagliato perché sarebbe Filippine e l'esemplare se è CB, WC o tutti gli altri esemplari a questo ci farò un video a parte come prima cosa sarà molto importante come decorazione del terrario un bel termometro per stabilire il grado di umidità del terrario un'altra cosa importante del terrario è che dovrà avere almeno due sezioni di areazione in tal caso le due pareti laterali e la parete di sopra in tal caso ce l'ho anche nell'apertura ma diciamo che se non ce l'avete va bene comunque una volta fatto ciò bisognerà appropriarsi di dire le giuste cose ovvero uno spruzzino che può essere tranquillamente quello per il sole per spruzzarvi l'acqua e un contatore dell'umidità due vanno sempre più che bene anche uno questo qua atterra il caldo all'interno del terrario questo qua l'umidità che in tal caso è un po' assente nel terrario tutt'ora circostante l'ultima cosa di cui noi avremo bisogno sarà una bella vasca in terra ma vi consiglio soltanto una vasca e basta che può essere una vaschetta non tanto alta di plastica di terra il motivo per cui ci servirà ve lo spiegherò dopo il terrario bisognerà stabilirci un totale pavimento diciamo in scottex dato che questa dato che questi insetti diciamo che sporcano abbastanza si può usare scottex o carta di giornale ma questo guardate bene che non vi impedisce di usare anche della terra ma vedremo dopo il perché è sconsigliato anche se potreste già capirlo dopo per l'alimentazione basterà un semplice vaso con acqua dentro in cui verranno messi poi le piante nutrici di cui si nutrirà l'animale che possono essere rove, nocciolo rose o sahal un'altra pianta perfetta ma io vi consiglio sempre di usare una sola pianta quella che avete scelto e vi consiglio anche il rovo perché è più facile da reperire anche nei mesi invernali dopodiché quando sia finito si metterà la vaschetta di terra adesso capite perché è meglio usare il giornale perché se riempirete tutto di terra vi ricordo non è una scena un'altra applicatoria metterci il giornale o lo scottex ma se riempirete di terra tutto il terrario sarà ben più più difficile individuare le uova e le feci poiché le femmine deporranno uova la femmina durante la notte metterà l'uovo oppositore che ho fatto vedere prima dentro la terra e deporrà le uova e ora andiamo a mettere dentro il nostro piccolo contenitore la parte più importante è che il maschio essendo più piccolo si posizionerà sempre sul corpo della femmina durante la fecondazione ed è consigliato di lasciarli in pace le uova fecondate le uove fecondate cimenteranno 3-4 mesi per schiudere mentre le uove per via non genetica cimenteranno 4-5 mesi alla schiusura questa specie di insetto stecco non è aggressiva e non è tuttavia pericolosa per l'essere umano e si può tranquillamente prendere in mano anche se sconsigliato fa lo poiché del piccolo dimessere dell'insetto si andrà in conto allo stress dell'animale che a lungo termine potrà anche portarlo alla morte 3-4 settimane dopo l'ultimo cambio di muta gli insetti inizieranno ad accoppiarsi ritenuta una specie infestante l'insetto stecco è proibito buttare via le uova prima di non averle messe in congelatore o se possibile scegliere quante uova tenere per poi farle schiudere e quali mettere in freezer si consiglia di mettere in freezer perché il freddo del freezer bloccherà il circolo di nascita delle neanidi che poi sarà possibile buttare o se meglio vendere alle fiere o ai vostri amici siamo venuti alla conclusione di questo video che spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile nel caso forse incominciare come prima specie ad allevare questa qua o nel caso ce l'abbiate e non sapete che parte pigliare spero che il video comunque vi sia ritenuto parecchio utile per la stabilazione e la temperatura potranno andare dai 60 ai 70 gradi di umidità il che l'insetto stecco andrà benissimo ma comunque anche a temperature casalinghe l'insetto vive benissimo quando si innaffia il terraio lo si fa per due motivi uno per inumidire e l'altro poiché una volta assettati gli insetti stecco o le neanidi sarà possibile andare a vederli mentre cercheranno di bere dalle pareti o sulle foglie della pianta nutrice le goccioline residue ultima cosa le neanidi dovranno essere lasciate per più di 12 ore appena nate nel fauna box di contenimento dopo le 12 ore il corpo delle neanidi si sarà indurito e sarà possibile prendere in mano per stabilirle nel terrario che avete già a c per poiché dullute